Good morning roleplayers, benvenuto anche oggi nel nostro spazio in cui ti offro un caffè e ne approfitto per tormentarti con le mie chiacchiere su persone, storie, emozioni e sì, anche giochi di ruolo. Per cui ferma tutto per i prossimi 5 minuti sei mio. Allora, di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di narrazione ambientale, in realtà sono paroloni per dire delle chiacchiere che mi sono venute in mente. Da un po' di tempo mi ronza nella testa l'idea, ma perché se ne sente parlare anche nei videogiochi, sono appassionato di videogiochi, di riportare in gioco di ruolo l'esperienza di Dark Souls. Se non sapete cos'è Dark Souls vi rimando a Wikipedia in due parole e vi spiego un videogioco abbastanza di moda negli ultimi anni. È un videogioco in cui non vi è una vera e propria storia con una narrazione in cui l'eroe fa il percorso dell'eroe. Cioè, in realtà c'è però, vabbè. Diciamo che non è canonico come gioco e come narrazione all'interno dello stesso. Vi è più, e ha fatto venire di moda, una lore, il lore, cioè praticamente un folklore della zona che racconta la storia del mondo in cui gioca, in cui si muove il protagonista, in cui il giocatore viene chiamato a compiere le gesta del protagonista, del personaggio. Ma non viene spiegata la storia attraverso PNG, attraverso cazzi e mazzi soliti e usuali dei videogiochi. Per cui è un po' particolare. Oltre a questo, ha anche un gameplay basato sul trial and error, ma soprattutto su un farm, un grind, cioè aumenta le capacità tue di giocatore e del personaggio per superare i vari ostacoli. Muori, ricominci, muori, ricominci, muori, ricominci. Insomma, ha diverse caratteristiche che sono diventate interessanti ed iconiche, tanto da far diventare i giochi successivi solo dislike. Io non dovevo adiungarmi tanto e vabbè, ormai l'ho fatto. Comunque, portare a un gioco di ruolo questo videogioco non è semplice, anche perché bisogna capire cosa si vuole portare di questo videogioco. Diciamo che l'esperienza del muori, ricomincia, in piccola parte potrebbe essere portata creando dei personaggi che muoiono e ricominciano e lasciando al giocatore la concatenazione, la legacy, l'ascito di questi personaggi che muoiono e ricominciano e potrebbe essere sia inserita in maniera diegetica all'interno del gioco, insomma in maniera proficua e naturale all'interno del gioco stesso, del mondo fantasy, però questo non porterebbe a un immaginario condiviso creato all'interno del gioco, ma si potrebbe ricreare anche solo con un board game senza scomodare i giochi di ruolo. La parte che più mi interessa è la narrazione ambientale, come dicevo prima, cioè il visitare del mondo da parte del protagonista e con questo raccontare una storia. Questa parte è particolarmente interessante per due motivi. Il primo è come portare a, come raggiungere questo scopo. Una buona tecnica potrebbe essere quella di far preparare l'avventura prima e costruire il mondo a un master e farla scoprire ai giocatori. È una tecnica che non adoro, anche perché mi piace che i giocatori partecipino alla creazione del mondo, un po' perché siano coinvolti o un po' perché comunque il master, insomma il giocatore che ha il ruolo di muovere il mondo, possa anche lui essere scaricato un po' della responsabilità e del peso di creare il mondo di gioco, che è divertente, è bello, è affascinante, ma a volte è anche un po' pesante e quindi se questa cosa è condivisa, tanto di guadagnato. Seconda cosa per cui, secondo modo in cui potrebbe essere raggiunta è quello in cui le regole del gioco riescono a suggerire una creazione uniforme, uniforme, una creazione uniforme man mano del mondo da parte di tutti i giocatori, ne esistono giochi di questo tipo, per esempio anche Arcipelago lo fa, dando in mano le responsabilità ai vari giocatori sui vari temi della partita e cercando di creare una situazione coerente in cui i giocatori compartecipano alla creazione del stesso mondo, anche altri giochi lo fanno giocato in Orlandia e anche in Orlandia, insomma ogni gioco ha caratteristiche, però non è la stessa cosa, non è una scoperta, in parte sì, cioè nel senso io gioco per scoprire cosa inseriscono gli altri giocatori, ma non è la stessa cosa, non è lo stesso feeling. Al momento, probabilmente perché non ha, cioè le due cose non si sormontano, cioè la scoperta del mondo e la conquista di nuove scoperte non si trovano nello stesso gioco, o almeno non mi sembra. Se avete giochi da suggerirmi che portino o spingano in questa direzione, siete benvenuti. Io nel frattempo continuo la mia ricerca di un mondo da scoprire, di un mondo fantastico da scoprire. Vi lascio quest'ultima cosa, il tempo fa mi era venuta in mente un'ibridazione qui social, cioè i giocatori vanno in questo mondo fantasy, scoprono parte di questo mondo e ritornati dalla loro avventura li condividono in un social, in una chat, in modo che altri possano riutilizzare questa parte del mondo. Questa è un'idea che mi sconfondi, farà magari avrò un'occasione per metterla in un gioco. E intanto, a domani!